La maggioranza ha dato prova di unità in questa seduta, in questa informativa? Sì, direi di sì, come era previsto, anche perché sinceramente l'informativa del Ministro non era un atto dovuto, ha voluto venire lei in aula a riferire, perché lei è solita metterci in trasparenza, volontà di chiarire, le questioni sono state chiarite, poi come ho detto anche nel mio intervento, non essendoci neanche un atto giudiziario a tal proposito la domanda è di cosa stiamo parlando, quindi di conseguenza assolutamente tutta la nostra solidarietà al Ministro che deve continuare a lavorare e che il Governo deve andare avanti senza farsi condizionare da questi tentativi di delegittimare l'attività di Governo attraverso delle inchieste giornalistiche, questo non può assolutamente essere possibile. Però anche le opposizioni hanno promesso di andare avanti, il Movimento 5 Stelle presenterà mozioni di sfiducia, in breve ci sarà anche una conferenza stampa per approfondire. No, sì, ma di solito quando si presentano poi le emozioni di sfiducia di solito servono per rafforzare il Governo, quindi insomma ci fanno pure questo favore, cosa possiamo fare? Meglio di così! Per te!